Vincere per non lasciare nulla di intentato, sia il San Pietro in vincoli che il Cattolica volevano fare proprio il big match in programma oggi pomeriggio, ma sapevano che le restive speranze di vittoria del campionato per quanto riguarda i giallorossi o di ritorno in zona playoff per i Ravennati dipendevano anche e soprattutto dai risultati sugli altri campi. E allora andiamo a vedere le nostre azioni, andiamo a vedere come il primo tempo sia un momento in cui le squadre fatichino un po' a entrare in ritmo, una grande cornice di pubblico causata anche dall'arrivo in massa dei tifosi della Cattolica che per poco non rischiano però di vedere incrinata l'imbattibilità del proprio portiere da questo tiro di Santucci, grande risposta di Celato, c'è il corner e c'è un'altra chance con il colpo di testa in area di De Luca sul fondo, dalla parte opposta il Cattolica prova a innescare i propri tenori, c'è questa discesa sulla destra che diventa ottima per un cross, un tiro cross effettuato da parte di docente deviato in corner, anche qui rimaniamo sul corner e vediamo spiovere il pallone per una battuta al volo cercata da parte del giocatore in maglia numero 3 Galassi Alta. Una chance per il Cattolica in chiusura di primo tempo si nasce dall'intesa fra i due giocatori più rappresentativi il passaggio profondo di Pasolini per la battuta alta di docente trema dunque il San Pietro in vincoli che però nella ripresa è molto abile a dettare i tempi del match arrivano intanto notizie che chiudono definitivamente ogni spiraglio di promozione diretta per il Cattolica, la San Pierana sta vincendo 3 a 0, Mamudi scalda i guantoni del portiere della Cattolica poi proprio il Cattolica in attacco con un'azione, una rovesciata, una sforbiciata di docente sul fondo niente da fare per il Cattolica e San Pietro in vincoli che a questo punto inizia a credere alla possibilità di vincere il match ottima imbucata, quella che arriva a bersaglio per una traversa gigantesca da parte di Casa Dio sbaglia poi a rimorchio la possibilità del tapin, Santucci si resta sullo 0 a 0 altra possibilità per i San Pietro in vincoli, sempre Santucci in azione, un cross pericolosissimo Montemaggi è in ritardo ma di poco e poi il Cattolica che vuole chiudere i conti per quanto riguarda il secondo posto ma sbaglia la conclusione in questo caso Pasolini e allora l'ultima chance è quella della vittoria a due minuti dal termine l'assist di Montemaggi proprio per Mamudi, il gol che batte l'estremo difensore celato il tiro sul primo palo, l'esultanza dei giocatori del San Pietro in vincoli che dunque festeggia questo successo il Cattolica che ci prova fino all'ultimo secondo per impattare un match che in realtà va in archivio con la vittoria del San Pietro in vincoli il punteggio è di 1 a 0